Buonasera cari telespettatori, ben ritrovati, arriviamo dopo il telegiornale con i nostri spazi di approfondimento, spazi di approfondimento che vi consentono anche di conoscere gli attori delle prossime elezioni amministrative, coloro che hanno idea di presentare il loro progetto, la loro visione e anche le loro motivazioni e del perché appunto si sono messi in gioco. Ospitiamo questa sera uno dei candidati appunto alla corsa elettorale per il Consiglio Comunale, Etienne Lucarelli, benvenuto. Buonasera Lino, buonasera a tutti. Etienne Lucarelli lo conosciamo perché è stato a capo della Proloco di Fano per tanti anni, adesso ha abdicato a favore di Gino Bartolucci, però ha deciso al termine di un suo percorso personale e anche di coinvolgimento nella città di candidarsi a queste elezioni. Dico bene? Esatto, è proprio così. Quindi partiamo dall'inizio, dalle motivazioni, del perché dopo questa esperienza così insomma densa di tante cose si è voluto mettere in gioco proprio in ambito politico. Ma allora innanzitutto ovviamente sono sempre le esperienze acquisite che poi ti portano a fare delle scelte nella vita. Io sono un ragazzo di 45 anni, anno 74, che si è speso lavorativamente, molti non lo sanno perché molti mi vedono sempre in ambito Proloco, ma sono un'area manager, gestisco le vendite per un'azienda, una multinazionale e gestisco le vendite di tutta l'area dell'Adriatico, quindi dalla Romagna alla Puglia, per dei prodotti che sono venduti all'interno anche di macchine amministrative, quindi questo mi ha portato sempre a contatto con le persone e la formazione in ambito delle vendite mi ha portato a fare proprio dei corsi specifici nei rapporti con le persone e quindi a crescere in questo ambito. Di contro abbiamo un'esperienza associativa lunga, io faccio parte di associazioni da quanto ero bambino, partendo dagli scout e poi facendo ACR, ACG, eccetera, eccetera, nella mia parrocchia, ma poi sono cresciuto con le associazioni di quartiere e poi è arrivato in Proloco dove praticamente sono state fatte tutta una serie di attività a favore della città che sono anche un po' sotto gli occhi di tutti. Tutte queste esperienze acquisite alla fine mi hanno portato ad un percorso un po' come in tutti i lavori, si cerca di imparare, una volta che si è imparato magari si prova anche a guidare l'operazione o a costruirsi una ditta propria. In questo caso tutte le esperienze e la maturazione mi portano a dire che è venuto il momento per me di mettermi a servizio della città. Credo che i nostri padri ci abbiano dato tanto in questi anni, a me personalmente tutta la generazione che ci ha cresciuto va ringraziata per tutto quello che ha fatto per noi, ma in questo momento è ora che la nostra generazione si metta in gioco e comincia a fare qualcosa per l'intera comunità. E questa è la principale motivazione che da oggi mi porta a servizio della nostra comunità. Bene, allora la sua candidatura ha creato un po' di scompiglio nel mondo politico perché chiaramente qualcuno la dava nella formazione di destra, poi ha fatto una scelta di campo completamente diversa, qualcuno ha detto che aveva già la poltrona in tasca, si era già seduto nella poltrona di assessore, insomma facciamo un po' di chiarezza anche su questo punto perché è stato argomento anche sui giornali spesso. Ma sì, ma credo che le varie richieste che sono arrivato, ovviamente vedendomi come una persona molto conosciuta in città per tutto quello che ha fatto, credono e ovviamente arrivano tutta una serie di richieste per capire se magari potevo affrontare anche con il centro-destra questo percorso. Ovviamente io sono una persona con degli ideali e che quindi ha sempre visto l'operato dell'attuale amministrazione, del sindaco Massimo Seri, un operato che è vicino alle mie caratteristiche, è vicino ai miei ideali e quindi nel momento in cui ho fatto una scelta poi ho deciso di appoggiare questo tipo di ideale. Sì, molti dicono anche beh ma tu vai a fare l'assessore, io dall'inizio l'ho detto non c'è la poltrona pronta per me o qualcuno che mi abbia detto qualcosa. Sinceramente tutte le esperienze acquisite, le esperienze oggi mi portano a pensare che quello potrebbe essere un settore dove io posso dare il mio migliore contributo. Ovviamente come tutti gli altri mi metterò in corsa, dovrò prendere dei voti per arrivare in consiglio comunale e poi starà il sindaco a scegliere quali sono le persone, la squadra che dovrà affrontare la prossima tornata amministrativa. Ecco quindi chiaramente il suo background lavorativo e anche l'esperienza in ambito cittadino la portano in una direzione ben chiara e quindi insomma le chiedo qual è il tipo di contributo che vuole portare in questo ambito che sicuramente è il suo campo elettivo. Ma sì, guarda, allora il mio contributo come l'ho detto prima riguarda un po' dal metodo di lavoro che è stato acquisito. Quando noi vediamo la realizzazione di tutta una serie di attività dicono, ah vabbè, quello è stato bravo a organizzare quella semplice attività. In realtà sotto c'è molto di più, c'è un'organizzazione, c'è un metodo di lavoro che si è aperto. Cioè in questi anni nella città la cosa più bella che è stata fatta e forse magari quella che risalta meno agli occhi è mettere intorno a un tavolo delle intelligenze della città, delle grandi esperienze, delle professionalità perché nei nostri eventi spesso e volentieri ci sono architetti, ingegneri, persone che magari conoscono di scenografia o nella realizzazione di altre attività ai quali veniva chiesto sempre un consiglio, un progetto per poter dare la miglior forma possibile all'evento che doveva essere realizzato. Nello stesso tavolo però ci sono anche persone volontarie che tutti i giorni si spendono per la loro città che attenzione, quanto si dice volontarie non significa che sono persone non capaci. Possono essere anche degli avvocati, notai, ingegneri che in un qualche modo nella loro vita decidono di dedicare il tempo oltre il lavoro alla propria città e questo è all'interno del gruppo di volontari ci sono queste persone. Questo tavolo ha attivato dei ragionamenti, delle sinergie della città che prima di tutto hanno fatto crescere, hanno motivato tutta una serie di realtà associative di quartiere che oggi, a parte realizzare tutta una serie di eventi che sono socialmente importanti per la comunità, una volta che mi ricordo si conosceva molto bene la persona che stava davanti a casa, a casa mia succedeva che si andava a prendere lo zucchero, la farina dalla persona davanti. Oggi questo purtroppo non succede più, non succede più e quindi è importante riportare le persone dei quartieri al centro di un'attività, farle conoscere e quindi è fondamentale il lavoro fatto da queste associazioni ma poi tutti insieme pensare di lavorare per la propria città e quindi arrivare alla realizzazione di eventi importanti come quelli che abbiamo visto, eventi che poi sono esplosi inevitabilmente come in Giro per Fan, come l'ultima Fanno dei Cesari, Fanno un Fortuna, come il Natale, cioè eventi di cui veramente non ci si aspettava potessero arrivare a tale livello ma che hanno un respiro importante. Eventi che oggi sono di accoglienza ovviamente perché non è stata fatta una comunicazione precisa nel mercato turistico per questo tipo di attività ma eventi che se comunicati bene e portati appunto nel mercato turistico secondo me possono dare un bel impulso alla città. Ok, questa è l'applicazione di un concetto, di un metodo all'organizzazione e alla gestione degli eventi, però ci sono tre tracce, tre sogni nel cassetto, spunti che vorrebbe mettere in campo. Sì, sono spunti di riflessione che io ho dato in questo periodo di campagna elettorale perché secondo me sono importanti e sono partito appunto secondo me dalla realizzazione di un tavolo tecnico del turismo partecipato, secondo me c'è bisogno di ritrovarsi soprattutto con gli operatori del settore per cercare di dargli un impulso maggiore perché alla fine bisogna lavorare appunto per loro, quindi con gli operatori, con gli enti, le fondazioni, le associazioni di categorie, le associazioni di volontariato in un tavolo per capire innanzitutto quali sono le problematiche che oggi si trovano gli operatori quando vanno nei contatti di prima accoglienza con i turisti e poi cosa possiamo fare meglio noi nella realizzazione di tutta una serie di attività cittadine al fine di rendere a loro il lavoro più facile e quindi nel tavolo dovrebbe essere discusso come muovere la città in termini urbanistici perché se poi l'asset strategico della città deve essere il turismo bisogna anche capire come urbanisticamente muovere la città, si può capire come attivarsi meglio per la gestione dei musei e monumenti e capire tante cose che il tavolo tecnico può comunque andare a risolvere. Quindi la creazione del tavolo tecnico può essere una cosa sicuramente importante, la valorizzazione del patrimonio culturale è una cosa a cui anche tengo molto e con patrimonio culturale non intendo soltanto l'insieme delle eredità che ci hanno lasciato e che oggi sono a noi disponibili come musei, monumenti e quant'altro, ma queste messe in correlazione con le persone. Io credo che oggi le amministrazioni comunali sono a disposizione di una serie limitata di fondi e quindi serve innanzitutto la capacità di attrarre fondi da fuori e credo che sia stata veramente una grande capacità di questa amministrazione comunale e del sindaco Seri. Oltre a questa se riusciamo a mettere insieme anche il valore umano, quello dato dalle persone, secondo me la città veramente può esplodere in questo senso e può superare anche le altre città nella stessa valorizzazione. E quindi quando parlo di patrimonio culturale dico perché non capire, studiare insieme quali gestioni nella città, abbiamo tanti musei, monumenti, punti di informazione, punti visitabili, perché non capiamo come utilizzare la forza, la dinamicità delle associazioni di categoria che vediamo anche attivarsi in tanti progetti di associazioni di volontariato, di enti o fondazioni, perché non capiamo come inserire questi nella gestione di tutte queste cose? Ovviamente la gestione può essere fatta ma chi deve dettare le linee guida, chi deve creare un regolamento chiaro di gestione deve essere l'amministrazione comunale. Io sono uno che piace molto viaggiare in Italia e ovunque vado vedo posti visitabili ma con ad esempio un'immagine integrata dei luoghi dove si entra, con le persone vestite tutte in un certo modo. Quindi ecco, avere una visione integrata dell'accoglienza e farla fare anche a chi conosciamo nella città, chi è il professionista che può farlo nella città, chi può essere l'esperto a farlo nella città, secondo me questo è una cosa importante. E poi l'altra suggestione che avevo dato era quella della creazione di una card turistica che c'è un po' in tutta Italia, addirittura alcuni l'hanno già passata ma secondo me da noi potrebbe funzionare veramente bene. Innanzitutto perché quando il turista arriva in un punto d'accoglienza che sia yacht, che sia hotel, che sia qualsiasi altro punto di informazione deve trovare una comunicazione integrata. La card potrebbe essere lo strumento che accompagnato con una posta comunicazione ti dice cosa domani tu puoi visitare in tutta la città. Come secondo punto renderebbe integrati tutti i punti di visita, oggi ce li abbiamo un po' spaiati, quindi alcuni sono aperti perché gestiti dall'amministrazione, altri sono magari o semi aperti o non si sa bene in quale orario aprono perché sono gestiti da altre associazioni e quindi tutti dovrebbero integrarsi in una apertura che fa parte appunto della gestione di questa card. Soprattutto noi con la card avremo la possibilità di far viaggiare il turista con un QR code che verrà passato ad ogni punto di visita e avremo la cronostoria di quello che fa il turista all'interno della città. I dati oggi sono fondamentali per arrivare a capire come muovere il turismo, quindi dati sia anche di livello nazionale per capire come la città si deve muovere ma anche come si sta muovendo il turista all'interno della città, quindi quali sono le attrazioni che vivono di più, quali sono le attività che fanno di più e quindi questa card potrebbe veramente integrare tutta una serie di posizioni per iniziare a dare alla città di Fano un punto di vista turistico più importante. Poi sotto la card ci possono essere tutta una serie di strumenti come il parcheggio con uno sconto particolare se non addirittura gratuito, degli sconti legati anche al commercio cittadino, così incentiviamo anche l'acquisto nei negozi del centro storico. Quindi possono integrarsi all'interno della card tutta una serie di servizi che possono dare alla città di Fano secondo me una marcia in più. Bene, facciamo due battute rapide anche sulla lista nella quale lei si è collocato, il progetto, la visione, tante competenze e tante referenze sono confluite insieme meglio. Sì, perché siamo partiti un po' da questa idea, un gruppo di ragazze ci siamo trovati, qui devo ringraziare anche il consigliere Boris Rapa che all'inizio ha fatto un po' da trade union tra tutte queste persone, ci siamo trovati e ci siamo ritrovati persone che hanno diverse competenze, esperienze in vari settori, quindi in settori professionali, in settori associativi, in settori nel commercio, dove intorno al tavolo sono cominciate a nascere tutta una serie di idee, sai quanto ti incontri con le persone, poi si fa presto a sviluppare veramente tante bellissime idee. E da qui abbiamo detto perché non creare una lista che possa dare l'appoggio all'attuale sindaco Massimo Seri, perché nella nostra visione è una persona che ha vissuto a pieno la città, che ha una visione molto vicina alla nostra, crediamo che la politica si debba fare tra le persone e non chiusi all'interno degli uffici e quindi credo che capire tutti i giorni le necessità che hanno le persone all'interno della nostra città, capire quali mosse fare per poter dare un impulso in più alla città a livello turistico e in tutti gli altri settori, credo sia importante che si debba fare a contatto con la città. Quindi siamo partiti da questa visione, abbiamo deciso di creare questa lista che si chiama Lista Insieme Meglio, quindi insieme perché ci siamo riuniti noi con le nostre esperienze e capacità per creare idee, ma insieme perché il percorso che vogliamo attuare è partecipativo ed in comunione con le persone che stanno nella città di Fano. Ci siamo messi in campo e quindi chiedo anche ai telespettatori, visto che siamo vicini al voto, di supportarci in questa idea che secondo me è veramente molto interessante. Allora, l'indirizzo, i punti chiave sui quali muoversi li abbiamo capiti, però se noi a questo punto dovessimo chiudere gli occhi un attimo, immaginiamo che chiudiamo gli occhi, che visione della città lei vorrebbe che noi avessimo? Chiudendo gli occhi, che cosa ci dovrebbe venire in mente? Allora, io parto da un aspetto che viene un po' prima e che prima di tutto ovviamente dobbiamo capire qual è l'asset strategico della nostra città, perché se è vero che l'asset strategico è il turismo, e visto che è una parola che è nella bocca di tutti, dobbiamo da domani fare tutta una serie di operazioni urbanistiche e commerciali per far sì che diamo veramente valore a questo asset strategico. E quindi, se deve essere così, la visione futura di città deve essere una città assolutamente riqualificata nelle sue bellezze e quindi il centro storico sicuramente va riqualificato, ma è una cosa che questa amministrazione è partita a fare, ci ha dato delle chicche veramente bellissime come il Pincio, come via Garibaldi, ma c'è tanto ancora lavoro da fare e quindi una riqualificazione anche dei servizi, perché la persona che viene poi nella città deve poter trovare tutto quello che è necessario, un turista quanto arriva deve avere subito immediatamente tutto sotto controllo e questo lo si fa anche mettendo nelle persone la cultura giusta per accogliere il turista, quindi anche le periferie o gli stessi commercianti o gli operatori ovviamente devono essere attenti alle esigenze dei turisti che arrivano nella città. Quindi mi vedo una città che si apra totalmente al turismo, che sia bella, che sia vivibile in tutti i suoi aspetti culturali e storici, fanno ovviamente una città storica e quindi la prima cosa che deve arrivare agli occhi delle persone è appunto tutti i nostri beni monumentali e artistici che devono essere sempre completamente aperti e vivibili. In tutto questo ovviamente vedo un forte legame con il territorio, con la vallata del Metauro, abbiamo una vallata fantastica e se riusciamo veramente a creare una sinergia, un network con anche i comuni del territorio, anche con progetti interessanti di cui si sente parlare, secondo me quella è una visione veramente bella e interessante di città con tutte le sue peculiarità storiche, gastronomiche, artistiche e quant'altro. Quindi creiamoci dei prodotti interessanti per fare in modo che possiamo attrarre più persone possibile. Quindi una bella città riqualificata, splendente, accogliente e soprattutto attrattiva per il turista. Assolutamente sì, devo dire anche che oggi ovviamente ci troviamo in una situazione dove c'è tanto lavoro da fare e il lavoro da fare è sia un lavoro a breve termine, nel quale ad esempio la suggestione, no non è una suggestione, sarà una realtà, la creazione del palazzo dello sport è sicuramente importante per il turismo, quindi dobbiamo fare tutta una serie di passi per far sì che gli attuali operatori economici e turistici possano lavorare al meglio, ma poi dobbiamo attuare anche delle strategie a medio e lungo termine per poter attrarre degli investitori. La città oggi si vede ha bisogno di strutture turistiche, ha bisogno di hotel, ha bisogno di poter accogliere le persone, altrimenti rischiamo anche di non essere efficaci negli eventi importanti che abbiamo nella città come mi viene a dire il carnevale, cioè noi dobbiamo riuscire a attrarre le persone, farle dormire nella nostra città, fare in modo che quelle persone spendano nella nostra città sia a livello turistico che a livello commerciale. Allora riusciremo veramente a far sì che tutte le attività che facciamo dal carnevale a la De Cesare, Algez, che sono tutte importantissime, io credo che queste associazioni stiano facendo un lavoro enorme, mi viene in mente anche Passaggi e tutti gli altri, però dobbiamo far sì che questi lavorano per portare economia nella città, per portare economia nella città bisogna che tutta la struttura turistica sia completamente efficiente. Bene, allora pochi giorni e poi andiamo insomma nelle urne, nel nostro segreto, a mettere un segno, come facciamo per votare Tiano Lucarelli? Questo credo che sia una cosa importante perché questi giorni girando tra le persone ho capito che qualcuno può anche incorrere in qualche errore. Per votare a Lucarelli nella scheda azzurra sotto sindaco Massimo Seri basta mettere la croce su insieme meglio e scrivere a fianco la preferenza e quindi scrivere il cognome Lucarelli, quindi croce su insieme meglio e la scritta Lucarelli. Molti dicono si può dare la doppia preferenza, sì, si può dare la doppia preferenza e quindi sotto Lucarelli si può scrivere il nome di una donna presente all'interno della lista insieme meglio. Io tra l'altro sostengo Ilaria Trigiani, quindi chi vuole può scrivere Lucarelli Trigiani, ma attenzione non si può mettere una doppia preferenza maschile, non si può mettere una doppia preferenza femminile o non si possono mettere nomi che provengono da altre liste. Dico attenzione perché gli errori nelle elezioni ne emergono veramente tanti, quindi grazie a tutti coloro che sceglieranno Lucarelli come preferenza per le prossime elezioni, ma attenzione a come si vota perché altrimenti ovviamente il voto sarà nullo, quindi o un unico nome maschile all'interno, di fianco al simbolo o un nome maschile e un nome femminile, della stessa lista. Della stessa lista, benissimo. Grazie a Etienne Lucarelli, siamo arrivati in fondo a questo approfondimento di stampo politico, abbiamo conosciuto uno dei candidati alla prossima tornata elettorale. Grazie per essere stato con noi. Grazie mille, grazie a tutti voi. E grazie a voi per averci seguito in questo ulteriore approfondimento. Ai prossimi appuntamenti, arrivederci.